La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 9 agosto, buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le notizie di oggi, partendo dai fatti nazionali con il quotidiano romano Il messaggero, in apertura imus contro tesoro, PDL, Saccomanni, iniqua abolirla sulla prima casa, avrebbe effetti regressivi, nove ipotesi di riforma L'ira del PDL, basta balletti, tassa da eliminare o cade il governo, il ministro, bene la service tax Articolo di fondo di Alessandro Campi, equilibri saltati, Berlusconi condannato, manda in crisi i giochi del PD Stretta contro il femminicidio, fuori di casa, i mariti violenti, via alle nuove norme, arresto per stalking e maltrattamenti E passiamo alla gazzetta del mezzogiorno, in apertura l'incubo, imu, nuova ipotesi di riforma Ancora scintille, PD, PDL, letta blinda, il governo, io e Alfano, andiamo avanti Sì al decreto sulla violenza di genere, cacciato da casa, il coniuge violento AFA su tutta la Puglia, il caldo picchiaduro, a Bari, febbre a 40 gradi Articolo di fondo di Lino Patruno, Sud, il pregio sempre mortificato dal difetto E andiamo al focus nelle pagine interne, anziano muore Alfazzi dopo tre mesi di agonia Un esposto alla procura, i familiari di Leonzio Manisco e di Lecce chiedono che sia fatta luce Il ministro pensa a un patto tra Ilva Taranto e Piombino e dalla Will grido di allarme La cassa integrazione in Puglia è aumentata del 74% in un mese Lavoro zanonato al siderurgico, il nodo della chiusura in un alto forno La gazzetta di Lecce chiese vietate in estate la rabbia dei turisti in centro Lazzaretti del comitato Santirene chiusa già alle 18.30 A Lecce i visitatori sconcertati denunciano la vicenda agli operatori commerciali di Corso Vittorio e Emanuele L'assessore Coclite, il comune mantiene aperti Santa Croce e il Duomo fino alle 23 E a Lecce raggiunti 38,5 gradi, Salento sulla graticola Veleni e denunce scontro aperto all'università, il caso Laforge attacca l'avvocato di Margiotta Il rettore uscente non sono ricattabile, illegale, affermazioni ingiuriose e minacciose E andiamo nelle pagine interne, il focus a Lecce segregata in casa, nuovo blitz della polizia E passiamo alle notizie locali con il nuovo quotidiano di Puglia in apertura Sono 30.000 le case fantasma, l'ex Catasto, una città nascosta nel Salento 1.000 gli immobili a Lecce e vasi 240 milioni all'anno Cassi integrati, fondi sbloccati, sospiro di sollievo per 280 lavoratori di 15 aziende salentine Le misure contro il femminicidio, donne uccise dopo Erika, arriva il decreto Via i mariti violenti da casa, il PM de Donno, ora si può Blitz nel deposito delle auto rubate, da Lecce a Latiano per smontarle Si cercano le vittime dei furti Focus nelle pagine interne, in retroscena dopo l'irruzione della polizia In un appartamento trattata come bestia, l'anziana segregata Articolo di fondo di Ferdinando Buero, Università come squadra di calcio, finalmente E leggiamo le prime pagine interne dell'attualità La crisi e la ripresa, ILVA a settembre, il piano industriale, priorità alla salute Il ministro allo sviluppo economico, Zanonato, ha visitato gli impianti del siderurgico di Taranto Cassa inderoga sì a 232 aziende, pubblicate le determine regionali di ammissione agli ammortizzatori Ecco i beneficiari, quasi un terzo del bacino fa riferimento a Lecce, Brindisi e Taranto L'allarme pugliese, segretario Will, incremento del 74% subito, il piano lavoro A Lecce, oscurati dal cantiere Perlapollo, protesta dei commercianti In piazza De Cristoforez, lavori fermi e ambulanti, noi penalizzati Siamo in centro e paghiamo affitti alti, ma gli affari vanno male Gli ambulanti chiudono l'entrata della piazzetta, degrado ovunque Passiamo alla cronaca della provincia Il blitz scoperto dai carabinieri nel Brindisino Auto rubate, fatte a pezzi, ecco il deposito Le vetture oggetto di furti compiuti a Lecce e in provincia A San Cesario, armati di mitraglietta all'assalto del market Due banditi in fuga con l'incasso e il portafogli di un cliente Concludiamo con lo sport del vecchio resta prigioniero di D'Ambrosio Il caso? Il difensore fa le bizze e la trattativa è ferma L'addio di Maio all'Aquila ha firmato un biennale Il progetto e i nuovi gioielli cresceranno a San Donato Accordo con la scuola calcio di Fabrizio Miccoli La rassegna stampa oggi termina qui Appuntamento fra poco con TG News 24 La rassegna stampa è stata offerta da